Queste sono invece le istruzioni che ti permetteranno di condividere lo schermo del tuo computer con i compagni con i quali stai lavorando. Allora vediamo come procedere. Una volta che sei dentro la chat, ormai hai capito come si fa, e vuoi far vedere ai tuoi compagni di lavoro qualcosa, devi andare su questo pulsante, presenta ora, cliccarlo, ti si apre questa finestrella. Tu scegli il tuo schermo intero, clicchi su qua, ti si apre un'altra finestra che ti chiede di scegliere. Allora stessa cosa, clicchi dove c'è il menu a tendina, scegli schermo intero e poi gli dici sì a consento. Bene, questa è la schermata che appare ai tuoi compagni. In pratica non stai ancora condividendo nulla, nel senso che loro vedono il tuo schermo nero della chat, c'è scritto che stai presentando, ma in realtà devi aprire un documento o un'applicazione. Cioè a questo punto devi aprire la schermata che tu vuoi che gli altri vedano. Allora il trucco qual è? Il trucco è quello di tenere pronta sulla scrivania, sul desktop del tuo computer, il documento che ti serve. Quindi questo è il riquadro della video chat. Dietro si vede il desktop del computer. Ok, allora decidiamo che io sto elaborando un documento per compito con dei miei compagni e il documento è questo qua. Bene, allora dopo che io ho scelto di condividere lo schermo, clicco sul documento e il documento si apre. A questo punto i tuoi compagni cosa vedranno? Vedranno questa pagina, cioè il lavoro che voi state facendo. Se siete semplicemente in due a lavorare, questo non crea problemi, nel senso che tu potresti addirittura anche aprire completamente a tutto schermo questo foglio in modo che si veda meglio, perché in due potete chiacchierare senza grossi problemi. Ma se foste un gruppetto e l'uso del microfono vi creasse qualche problema, o semplicemente perché c'è un problema alla connessione, o perché la tentazione, non è che uno lo fa apposta, però finisce che poi si parla tutti contemporaneamente uno sopra l'altro, può essere molto più comodo utilizzare la colonna della chat. Allora che cosa puoi fare? Resti sulla pagina della videochiamata, apri la colonna della chat, restringi leggermente il foglio su cui stai lavorando e lo fai combaciare con la parte nera. Che cosa comporta questo? Che i tuoi compagni continueranno a vedere questa parte in grande. Tu però avrai il vantaggio di poter tenere d'occhio le domande o le osservazioni dei tuoi compagni sulla parte laterale dello schermo. È semplice, è ovvio però come sempre in questi casi che bisogna fare una prova. All'inizio c'è qualche piccolo intoppo, dopo cinque minuti si capisce come funziona e si diventa perfettamente capaci di gestire questo che diventa uno strumento molto importante per poter fare dei lavori di gruppo anche nel caso in cui non ci si possa trovare a casa di qualcuno.